Salve a tutti. Io riparto semplicemente da quello che stava dicendo Carlo Bernardini, parlando appunto delle generazioni future. Perché questa cosa? Perché stavo pensando l'altro giorno che io la prossima settimana faccio 35 anni, insegno in una scuola e se voi provate a chiedere a un ragazzino di 15, 16, 17 anni quanti per esempio sono gli immigrati in Italia oggi, vi risponderanno, anche se hanno una buona cultura, anche se hanno dei genitori che li hanno educati bene, 25, 30, 35%, 40%, 50%. Nel senso il tasso di immigrazione percepita nel paese si aggira, secondo una ricerca reperibile su internet, intorno al 23%. Gli immigrati in realtà sono in Italia al 6,5% per esempio. Questo per dire che in realtà i ragazzini di 16, 17 anni, 18 anni, sono dei nativi berlusconiani, cioè sono persone che in realtà non hanno visto, non hanno potuto vedere un mondo prima che ci fosse berlusconi. Come non concepiscono un mondo senza cellulari e senza internet, non concepiscono un mondo senza questa anomalia. E io mi sono reso conto che come questi ragazzini, effettivamente, io ho visto gli ultimi 17, 18 anni della mia vita, cioè la metà della mia vita fondamentalmente, confrontandomi con questa anomalia con cui non avevo nessuna voglia di confrontarmi, non volevo confrontarmi con il conflitto di interessi, con il DDL intercettazione, c'ho altro da fare io nella vita. Voglio sposarmi, voglio fare dei figli, voglio fare delle cose belle insomma nella vita. Perché devo confrontarmi con queste cose? E dicevo, che cosa è stato tolto a questi ragazzini di 16, 17 anni? È stato tolto qualcosa di più dalla propaganda berlusconiana, cioè non è stata tolta soltanto l'informazione per cui noi ci battiamo, la libertà, la verità. È stato tolto qualcosa di più, cioè la capacità di immaginazione. Il lavoro della propaganda berlusconiana è così pervasivo e così lungo, appunto, a 18 anni di storia, è diventato maggiorenne fondamentalmente questa anomalia berlusconiana, che appunto ha tolto la capacità di immaginazione. È per questo credo che in questo momento gli scrittori, le case editrici, i giornali, le altre realtà culturali si stiano svegliando. Perché il lavoro che bisogna fare non è soltanto un lavoro politico, è un lavoro sull'immaginazione. Quindi quello che volevo leggervi in realtà è un brano che io ho riscritto, una cosa vecchia che ho riscritto, che parte da un'immaginazione, cioè da un'opera di finzione, sugli anni 90, cioè sull'inizio degli anni 90, in cui qualcosa poteva essere diverso, ci si poteva incamminare in un cammino diverso. Siamo un po' prima, appunto, del 1994. Giochiamo a carcetto il giovedì, a parte ieri che era partita di torneo, in genere dalle 11 a mezzanotte. Sul campo con l'erbetta vera che manco a Manchester ce l'hanno così. Siamo sempre i solidi, più o meno, con alcuni ci conosciamo dall'università. Le squadre anche sono presse a poco le stesse. E ormai si sono standardizzati anche i ruoli, i nomignoni, il gergo dallo spogliatoio. Io sto in porta e gli altri che stanno con me sono Attilio, Cesare, dietro, Renato e Giovanni davanti. Ho fatto il conto che in vent'anni che giochiamo tutte le settimane ci saremmo fatti quasi 500 partite qui alla Canottieri Lazio. Comunque è Giovanni che tiene le statistiche, le medie golle e mi mostra ogni volta un grafico aggiornato al computer. È l'unico carcolo per cui non devi trovare un magheggio, gli ha fatto qualche settimana fare Nato. Giovanni è un avvocato fiscalista, è il migliore a Roma probabilmente. Potrebbe far passare il sultano del Brunei per un bengalese che ti vende l'allio all'AGS. Ha da retta alla sua strepitosa capacità di invenzione delle palle. Pure Bill Gates quando è venuto qua in visita in Italia voleva conoscerlo perché aveva sentito parlare di lui dal suo entourage come The Brain, il cervello. La nostra squadra si chiama Sogno, così semplicemente Sogno. Il nome è venuto fuori sia per via della moglie di Cesare che c'erano le donne, pure loro quando abbiamo deciso il nome. E Cesare per far cojone pure se ne usciva con cose tipo decimamas, nucleo nero, stronzate così. E lei giustamente si incazzò perché si era presa l'incarco di andare a fare le maglie da un suo amico sarto e farsele confezionare. Ma perché mi dovevate sempre fare queste figure? Ma qualcosa di umano non lo sapete sceglie. E quando Attilio ha tirato fuori sta parola Sogno è stato bene a tutti. Ovviamente a caricare un riferimento al suo idolo Edgardo Sogno, che eravamo forse io e lui, più Cesare certo. Col fatto che abbiamo preso tutti a lavorare, a lavorare pesante, pesante sul serio, loro avvocati coste consulenti, fallimenti grossi, clienti all'estero. Io costa fare le tangentopoli che ogni giorno ne succede una, immaginiamo che avremmo perso l'abitudine alla partitella settimanale. Invece no, no, è stato il contrario, si è diventati intransigenti, chi dà forfè per ragioni leggere passa per uno stronzo. Così è stato per due mesi con Renato, che doveva seguire il processo di non so chi appalto, smaltimento dei rifiuti, e diceva che doveva studiare le carte la notte. Che ovviamente si è arrivata una scusa del cazzo, che la verità era che intrescava con una che non ci voleva far conoscere, tale Ornella, sarda d'origine, pare pure amante dei craxi da giovane. Ma il puntiglio di Cesare, che è il capitano, ha ormai una formula a sé stante, è un'ora a settimana, è soltanto un'ora a settimana, che poi logicamente non è soltanto un'ora perché finita la partita te fai le docce, te fai la cena, quattro chiacchiere, i cottili che c'è una locorrea che pare che sta a fare la ringa per salvare il culo a un serial killer. Lui non è che fa l'avvocato, lui è un avvocato. Pure quando scopa, devi immaginare che se mette la moglie, convince la moglie a fargli una pompa. Guarda, lo sappiamo tutti che sei in fio dei puttani, io ho fatto una volta, c'ho le foto due che ti abbracci con Provenzano Andreotti. E lui mi ha detto, scommettiamo che ti ha a rimedio una foto, una foto di Provenzano con Andreotti. 50 milioni che ti ha a rimedio, se 50 milioni son botto, fammo 10, se apago io 20. Alla fine questa famosa foto millantata di Provenzano con Andreotti non l'ho mai vista, ma in compenso tempo dopo ci ha portato una foto assurda, che non so come sei riuscito a procurare, amici suoi che c'è in Vaticano, oppure un fotomontaggio fatto molto bene. Insomma una foto del Papa in mutande, non faceva mica ridere, un'impressione anzi. Io lavoro come giornalista, adesso sono tornato alle note politiche del tempo, qualche anno fa quando non si sapeva manco chi cazzo eravamo, sembrava che fossi io quello che aveva svoltato. Io, il pupillo di Gianni Letta, gli editoriali in prima pagina a 28 anni, poi mi hanno chiesto se andavo a fargli lettori di un giornale che doveva essere il giornale della nuova classe imprenditoriale di Roma e Meliano messe insieme. Ma alla fine si è scoperto che quelli che ci sono metti i soldi, erano Ligresti e Caltagirone, due che non si sono mai potuti vedere, è tutto andato a puttane. Quindi è saltata fuori l'opportunità di fare il vice all'indipendente, il giornale della seconda repubblica, che se è arrivato al secondo mese di vita è stato già tanto. Morale, sono ritornato al tempo, che però adesso sono abbassati quattro anni, se glielo chiedi all'edicola, pare che stai a chiedere il giornale dei poveracci, delle massaie, quello che ha svoltato in definitiva, mica sono io, sicuro, non sono io. Del resto perché l'orario delle partite è slittato da un orario umano fino alle 11? Perché Cesare adesso si è messo a fare politica, anche se non ancora esplicitamente, ma pare che prima o poi sto partito uscirà allo scoperto. E se prima già conoscevo uno sfacelo dei persone, ma pare che sono stati tutti in classe con lui all'elementare, c'è gente mai vista e sconosciuta, personaggi improbabili, ragazzette di vent'anni tipo caraibico, brasiliano, che in confronti i nani e le ballerine, erano gente de gusto, vengono qua a fare il pubblico alla nostra partita settimanale, si sitano là sugli spalti con ste faccette assonnate, che paiono veramente che hanno perso tutti una scommessa. Cesare fa proprio il boss, manco le guarda, poi quando è finita la partita, se gli girano bene, si avvicina, e le prime volte io pensavo che fossero amici di quegli altri, della squadra avversaria, ma quando ho visto la stessa gente, signori anziani, ragazzini, ragazzette, bambinette, che tornavano a fare il pubblico, gli ho chiesto a lui, e lui mi ha spiegato che non sa più dove riceve la gente, che gli chiede favori, favorini, e loro gli dice di passare alle 11 da noi il giovedì, pensando di dissuaderli, ma quelli figurati, darebbero il culo, figurati se non possono mettersi a fare i tifosi. Il bello è che tutta già sta gente non ha capito che il vero mago ogni risolutore, qua in mezzo, a tutti, è Attilio, è a lui che gli devi portare i doni votivi, lui gli dà 100 milioni, tempo tre mesi, ti torna con un miliardo e mezzo, non si sa come fa, investe all'estero, gioca al casino, vende enciclopedie, spaccia, comunque è una macchina. Quando ho provato a capire come riesce a far remmita, lui mi ha detto, guarda io non faccio un cazzo, è la lira che si svaluta, e io ho tutte le valute tranne le lire.